Buongiorno. Il Vangelo di oggi, al capitolo 9 di Matteo, nei versetti dall'1 all'8, presenta la guarigione da parte di Gesù di un paralitico che viene portato a lui disteso su un lettuccio. Ma quello che sorprende i presenti è che Gesù, prima di guarirlo, gli perdona i peccati. Anzi, sembrerebbe che Gesù volesse limitarsi a questo, se di limitarsi si può dire, gli perdona i peccati e compie il gesto della guarigione solo per confermare ai presenti che egli ha il potere di perdonare i peccati. La guarigione del fisico dunque come segno per mostrare che c'è in Gesù un potere più grande, il perdono dei peccati. Viene da chiederci per noi, soprattutto dentro la situazione mondiale che stiamo vivendo e dopo aver attraversato, almeno in Italia, la tragedia più grande della pandemia, che cosa più di ogni altra ci rende paralitici? Certo c'è la malattia fisica, certo ci sono le cose materiali che ci preoccupano, certo c'è il dolore, la sofferenza, ma quanto siamo consapevoli che vi è una ferita più profonda, un legaccio più duro da sciogliere che è quello dell'anima? Riscoprire il senso del peccato è necessario prima di tutto per noi cristiani, non tanto per spaventarci, non tanto per sentirci incapaci più di quanto già non lo sperimentiamo da soli, ma piuttosto per andare alla radice della nostra povertà e poterci porre davanti a Gesù veramente con quello che siamo e permettergli di esercitare il suo potere che vince il peccato e che vince anche la morte, non la morte fisica nel senso di un partire da questa terra, ma la morte dell'anima, la morte della persona, la morte che non può avere risurrezione. Gesù l'ha vinta, l'ha vinta per sempre. A noi dunque la possibilità oggi di interrogarci se le nostre paure si limitano a quelle di un dolore, di una malattia, di una sofferenza fisica o non abbiamo anche la consapevolezza di doverci guardare dalla morte del cuore, dal peccato che ci allontana da Dio. Nel momento in cui lo riconosciamo, solo porci davanti a Lui è sufficiente perché Egli ci liberi, ci restituisca la vita, ci faccia alzare in piedi e ci rimandi a casa, alla vera casa, con la gioia traboccante nel cuore, perché la misericordia di Dio vince ogni peccato, sempre. Buona giornata.